Le ore decisive per il destino dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, iniziato intorno mezzogiorno nella capitale il vertice tra governo, regione e comitato organizzatore, teatro sospeso intanto nel capoluogo ionico. Svolta sui crediti incagliati del super bonus edilizio, passa quasi all'unanimità la legge in consiglio regionale, i colossi di Acquadotto Pugliese e Aeroporti di Puglia ne acquisiranno per 90 milioni di euro, dando sollievo al comparto in linea con la legge della vicina Basilicata. Nasce il consorzio della mozzarella di gioia del Colle di O.P. Bayers da tutta Europa in Puglia fino al 23 ottobre prossimo per scoprire e valorizzare l'eccellenza casearia. Buon pomeriggio, benvenuti e bentornati all'appuntamento in diretta con la nostra informazione in primo piano i giochi del Mediterraneo, iniziato intorno a mezzogiorno il vertice nella capitale che si annuncia come dirimente per le sorti dei giochi di Taranto 2026, intorno al tavolo governo, regione, comitato organizzatore e fiato sospeso nel capoluogo ionico. Queste sono le immagini di questa mattina. I giochi del Mediterraneo restano una bellissima immagine del nostro Paese. È fondamentale un chiarimento all'interno della stessa maggioranza sulle eventuali difficoltà che abbiamo appreso soltanto dai giornali. Non saremo ignari corresponsabili di un possibile fallimento, considerato che è stato proprio il nostro gruppo al Senato nella scorsa legislatura a ottenere lo stanziamento dei 150 milioni destinato alla realizzazione così Forza Italia sul vertice ancora in corso e fiato sospeso nel capoluogo ionico proprio per il rischio che a valle di questa riunione possa persino entrare in discussione l'ipotesi di uno slittamento della sede degli stessi giochi. Intanto andiamo avanti, maggiore notizia nel corso delle prossime edizioni. Andiamo avanti con il rischio, cause e rallentamenti sulla rimodulazione del piano di ripresa e resilienza li ha manifestati. I timori. La numero uno di Ance, nazionale Federica Brancaccio, lo ha fatto nell'escorsione dal capoluogo. Il ministro Fitto sin dall'inizio ha parlato di una riprogrammazione e ha rassicurato il problema sono i tempi, i tempi in cui si riallocano queste risorse, le regole, ma anche il fatto che hanno una ripartizione geografica ai fondi strutturali diversa dalla riprogrammazione del PNRR. Quindi ci potrebbe essere un po' di caos e un ulteriore rallentamento. Non nasconde i timori Federica Brancaccio, numero uno di Ance, quando le si chiede della rimodulazione del piano di ripresa e resilienza e delle rassicurazioni del ministro Fitto. Per la Puglia vuol dire 800 milioni di opere per circa 1200 interventi per i quali garantire coperture. L'occasione è il convegno del capoluogo su ponti e gallerie nel piano. Il ministro Salvini, in collegamento mostra i muscoli, ribadisce che il nuovo codice degli appalti non ha bloccato il sistema e guarda a 2032 per il ponte sullo stretto. PNRR 222 miliardi in tutta Italia nei prossimi tre anni. Di questi 108 impattano nel comparto edilizio e di questi ancora 7 in Puglia. L'altra faccia della medaglia sono i crediti fiscali incagliati dopo il blocco del superbonus per i quali nelle stesse ore arriva il Via Libera in Consiglio regionale dopo la che ha la legge in commissione. La cosa più semplice probabilmente sarebbe comprare a valle delle banche che già hanno fatto tutta l'istruttoria. Quindi è un acquisto sicuro, è un acquisto non speculativo. Ovviamente in quel caso le banche dovrebbero impegnarsi a ricomprare ciò che liberano dai cassetti fiscali. Così dunque Federica Brancaccio sui crediti incagliati del superbonus. In regione ieri pomeriggio una svolta vale 90 milioni di euro. C'è una legge approvata quasi all'unanimità. Vediamo come funziona. La svolta porterà la firma di Acquedotto Pugliese, Aeroporti di Puglia e l'intervento dei due colossi sposta a 90 milioni di euro sul mercato. Il Consiglio regionale prova così ad uscire dall'impasto sui crediti fiscali relativi al superbonus edilizio. Provando a dare sollievo a famiglie e imprese, la legge nell'ultima riunione della Massima Assise passa quasi all'unanimità senza il discoverte di Antonio Tutolo, rimasto insoddisfatto per il mancato accoglimento di alcuni emendamenti. Il dispositivo ricalca quello della legge messa a punto dalla Basilicata. Le società controllate dalla regione possono infatti acquisire dalle banche i crediti fiscali delle aziende che hanno realizzato lavori con il superbonus. L'ente di Via Cognetti e quello guidato da Antonio Basile hanno versato imposte e contributi per un totale di 90 milioni di euro e quindi potranno acquistare crediti dalle banche per una somma equivalente. Le banche a loro volta potranno così rimetterla in circolo, liberando spazio utile nel loro cassetto fiscale. Il jolly, in compenso, vale soltanto per un anno, visto lo stop dalla capitale arrivato sulla misura. Al momento la legge del vicino parlamentino lucano però non è stata impugnata e la Puglia confide in un uguale lascia passare del Consiglio dei Ministri. La cornice è senz'altro quella della manovra finanziaria nazionale, ancora polemica nella capitale. Sentiamo. Non resteremo a guardare, a movimentare la giornata politica romana con tanto di tende davanti a Montecitorio e gli studenti universitari e medi contro il caro scuole e caro affitti. In questa manovra non c'è nulla per noi, rivendicano i ragazzi delle scuole. Non investendo e non creando seriamente una politica che risolve problemi del diritto alla casa, del diritto all'abitare, dei fuorisede, si vanno realmente a creare studenti serie A, studenti serie B e studenti che non possono avere l'accesso all'università e la formazione, questo è quasi anticostituzionale. A dargli supporto una parte delle opposizioni. Ci sono per l'ennesima volta fondi per le scuole private, ancora una volta, non ci sono interventi a favore della scuola pubblica, se non possibili e probabili riduzioni. Siamo di fronte ad un governo che sulla manovra di bilancio, dalla sanità alla scuola all'università, fa il contrario di quello di cui ci sarebbe bisogno. La nuova legge finanziaria porta con sé le prime polemiche. Per Giuseppe Conte la prospettiva di politica economica e sociale di questo governo è veramente sconfortante perché non c'è nessuna misura per la crescita, per l'investimento. Così il Paese va in regressione. Abbiamo un governo senza visione, senza coraggio, senza alcuna determinazione a far correre l'Italia. Però è un governo che continua a prendere scuse. Quando parla di superbonus ancora oggi la Meloni vuole additare come la causa di tutti i mali siano questi 20 miliardi che si prevedono nel prossimo anno di spesa per il superbonus. Per la maggioranza la strada è tutta insalita. Questa manovra tiene conto delle reali esigenze degli italiani, dicono, nonostante i pochi fondi a disposizione. Forza Italia è soddisfatta avendo quindi contribuito a dar valore al concetto, al principio di sostenere i reti di base, quelli che hanno più bisogno e su questo il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Sostegno alle famiglie, alle madri che lavorano e questo è quello che abbiamo fatto. Incentivare le imprese che assumono, che investono e quindi creano lavoro va nella direzione appunto di cercare di aumentare e di fare un po' riprendere il nostro paese cercando di lanciare un po' l'economia. Questo è quello che è l'obiettivo della manovra. E chiudiamo la pagina politica con i nuovi vertici di Italia Viva. Nel fine settimana il congresso e il consigliere regionale Massimiliano Stellato, il nuovo numero uno pugliese, questa mattina ha presentato la governance dei centristi. E ha già sentito Renzi e se sì cosa le ha detto? Vai avanti, spedito, portami i risultati. Parte con gli auspici del presidente nazionale Matteo Renzi, l'incarico di Massimiliano Stellato come nuovo presidente di Italia Viva Puglia. La prima conferenza del nuovo corso si è svolta all'Hotel Plaza di Taranto alla presenza dei nuovi vertici. Dopo i congressi sono risultati eletti i presidenti Stefano Franco a Bari, Ghetano Marvulli per la città metropolitana di Bari, Ruggero Crudele per la BAT, Tiziana Palmisano a Brindisi, Dino Marino a Foggia, Massimo Toma a Lecce e Fabio Galli a Taranto. Stellato sottolinea di essere stato eletto con l'85% dei voti e contesta le dure critiche dell'area Bellanova che non ha partecipato per protesta nei suoi confronti al voto congressuale e che esprime dissenso accusando Stellato di non avere rispetto per la democrazia interna e i valori reali del partito. L'Italia Viva ha le idee chiare, ha una posizione spiccata, attrazione riformista, rilancerà i tratti identitari del partito ovviamente con un rinnovato dinamismo che rispetto al passato si era un po' interrotto. Cosa dice alla parte che non ha partecipato alle votazioni e che la critica? Beh, soltanto 400 persone non si sono recati a votare e l'85% ha scelto la nuova guida, quindi il congresso ha dato un risultato chiaro e forte. Così ha parlato il congresso, dice dunque Stellato. Il lavoro, il lavoro ripartenuto dal fronte Ionico e da Exilva, il numero uno di Acceglierie d'Italia sarebbe pronto a dimettersi, avverte non siamo in grado di pagare il gas, il futuro del sito è incerto. Per lo stabilimento Acceglierie d'Italia e per l'intero gruppo siderurgico siamo ben oltre l'allarme rosso, la produzione rischia di bloccarsi per il rischio imminente di un'interruzione della fornitura di gas e la clamorosa rivelazione fatta dalla Presidente di Acceglierie Franco Bernabè in audizione presso la Commissione Attività Produttive della Camera. Serve una caparra di 100 milioni di euro al fornitore che il gruppo non è al momento in grado di pagare. Nessuno ovviamente si fida di una società che non ha soldi e quindi vuole un pagamento anticipato. C'è il rischio imminente di un'interruzione della fornitura di gas. Purtroppo il problema è che ogni decisione che riguarda Acceglierie ha tempi lunghissimi che sono dovuti alla situazione giuridica, alla situazione normativa, alla situazione ambientale. Di fronte alle domande dei componenti della Commissione, tra cui Pugliesi, Patti Labate o Baldo Pagano, l'ex Ministro del Lavoro Orlando, l'ex candidato sindaco di Taranto Bonelli, Bernabè ha risposto a tutte le domande. La carenza di liquidità e l'aumento dei costi rende difficile l'acquisto delle materie prime. Lo stabilimento di Taranto, ha detto, è uno dei più ambientalizzati al mondo ma senza decarbonizzazione, che richiede 10 anni. L'impianto dovrà acquistare i certificati verdi con un aggravio insostenibile dei costi di produzione. L'accioio green è una necessità, l'Italia serve, ma c'è bisogno di un intervento urgente di sostegno e spetta agli azionisti trovare un equilibrio nella governance ora maggioranza Arcelor. Bernabè ha infine confermato di aver rimesso il proprio mandato nelle mani del governo. Cresce la preoccupazione a Brindisi per il processo di decarbonizzazione. Il sindacato dei Cobas ha proclamato lo sciopero dei lavoratori della Sir. Si tratta della ditta che effettua il servizio di movimentazione merci nella centrale Enel di Cerano. Il sindacato Cobas di Brindisi ha proclamato lo sciopero dei lavoratori della Sir, ditta che effettua il servizio di movimentazione merci presso la centrale Enel di Cerano e sulle banchine del molo Enel a costa Morena Est. I lavoratori hanno incrociato le braccia dalle 9 alle 12 di mercoledì 18 ottobre. Sittini in piazza Santa Teresa incontro in prefettura per esprimere le legittime preoccupazioni in vista del processo di decarbonizzazione. I vuoti lavorativi vengono compensati dall'azienda con ferie e rollo, recupero orario lavorativo, quelle piccole diminuzioni di orario contrattuale. Quindi abbiamo già delle grosse difficoltà per questi lavoratori, già adesso. Puntiamo da anni a sollevare la coscienza, l'opinione pubblica sul dramma del dopo. La decarbonizzazione, i processi legati ad un'alternativa occupazionale non sono nemmeno iniziati, le promesse dell'Enel sono rimaste ancora tali. Quindi noi abbiamo paura che come altre volte si arrivi alla fine senza ottenere niente e nulla. Noi oggi siamo qui per continuare a dire solleviamo la coscienza pubblica per protestare contro quello che viene sottratto a Brindisi. I lavoratori non possono pagare ulteriori crisi. Il discorso è che praticamente bisogna muoversi per tempo per evitare che la situazione possa precipitare, chiaramente. Le cose vanno programmate per tempo, quindi gli investimenti vanno programmati, si parla di impianti fotovoltaici, si parla di tante cose, però oggi noi non vediamo nulla. Questo è quello che ci preoccupa, che ci preoccupa da anni e stiamo cercando di sensibilizzare soprattutto i lavoratori a questo dramma. Un'avvocatessa di Andrea, grazie a Tiziana Favullo, avrebbe fatto da tramite fra la mamma di un commerciante vittima di usura e i fratelli Pesce con il fine di estorcere denaro. L'avvocatessa del foro di Trani consegnava nelle mani di estorsori chiunque avesse bisogno di prestiti, condizionando la loro morale e di fatto gettandoli nel baratro della criminalità. Avrebbe non solo dimostrato di intrattenere rapporti con soggetti di spicco della criminalità andriese, mostrando piena adesione alle illecite modalità di agire, ma anche di condividerne le regole dell'omertà. È quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Bari, Anna Perrelli, che ha posto agli arresti domiciliari l'avvocatessa Cinquantene residente ad Andrea, coinvolta nell'inchiesta coordinata dalla DDA di Bari. In carcere, oltre all'avvocatessa, sono finiti i fratelli Oscar Davide e Gianluca Pesce, di 34 e 36 anni, Michele Altomare Caldarone, di 28, Giuseppe Loconte, di 21 e Nicolás Nicola Marino, di 31 anni. Le accuse a vario titolo sono estorsione, tentata estorsione e usura aggravate dal metodo mafioso, oltre che detenzione illegale e porto illegale di pistola. Secondo quanto si legge nel provvedimento del GIP, l'avvocatessa avrebbe agevolato la consumazione del reato, contribuendo con la sua opera di mediazione, non solo alla pressione morale e alla coazione psicologica nei confronti delle vittime, ma soprattutto alla realizzazione del profitto illecito in favore degli indagati. Per gli inquirenti, il ruolo della professionista si è in concreto tradotto in un indispensabile ponte fra la persona offesa e gli estorsori, con il deliberato proposito di far sì che la stessa soddisfacesse le illegittime pretese criminali. L'avvocatessa, inoltre, avrebbe rassicurato i fratelli Pesce in merito alla vendita della casa della presunta vittima, accelerando nella relativa procedura di vendita in vista della scadenza stabilita per la restituzione dei soldi prestati dai presunti usurai. La consegna dei 40.000 euro ai fratelli Pesce, cifra maggiorata, sarebbe avvenuta nello studio dell'avvocatessa, che chiusa l'accaduto, dicendo, ho chiuso questa operazione. Dal territorio, il Comune di Potenza perde un maxifinanziamento per i lavori di completamento del settore distinti dello stadio Viviani. È stata pubblicata la graduatoria finale del bando Top Sport, che consentirà a 16 comuni lucani di riqualificare strutture e impianti sportivi esistenti per un investimento totale di 5 milioni di euro. Graduatoria che vede però il Comune di Potenza solamente al 31esimo posto e quindi fuori dalla possibilità di ricevere il finanziamento per gli interventi proposti relativi ai lavori di completamento del settore distinti dello stadio Viviani. Ricordiamo che noi abbiamo già perso un importante bando, che era quello di Bando Sport e Periferie, con il quale avremmo potuto riqualificare il campo di macchiaggiocoli. C'era poi questo ulteriore contributo della Regione, per il quale avevamo candidato un progetto di 500 mila euro per il collegamento dei distinti dello stadio Viviani. Anche questo oggi scopriamo di essere in coda alla graduatoria, vedendo comuni molto più piccoli del nostro averci superato in classifica. C'è poi un'altra situazione che, come spiega la consigliera Andretta, riguarda i lavori di riqualificazione della palestra Coni di Montereale e della mancanza di campi da basket nella città, capoluogo. È una situazione che ci è stata denunciata dalla Federazione Italiana Pallacanestro della Regione Basilicata, che con l'entrata in vigore delle nuove norme noi non avremo più campi di basket a norma per poter far disputare le gare di basket e invece di provare a trovare soluzioni per questo e quindi il Coni, la riqualificazione del Coni per la quale investiamo un milione e mezzo, avrebbe potuto essere una soluzione ideale, avremmo potuto restituire alla città, un palazzetto che poi storicamente è sempre stato dedicato al basket, invece pianifichiamo un palazzetto, progettiamo un palazzetto che sarà dedicato a tutti gli altri sport, tranne che al basket. Ci spostiamo a Lecce, un concorsone con gestione alla mobilità cittadina, sentiamo. Appena 35 posti disponibili per oltre 11.000 candidati, un'unica prova come canale d'ingresso tra i funzionari del Comune di Lecce, e questo il concorsone che sta paralizzando quasi l'intera città e che avrà luogo da oggi, mercoledì 18, sino a venerdì 20 ottobre prossimo. Il concorso, disposto nell'ambito del patto per Lecce, è stato indetto per evitare il dissesto finanziario che l'amministrazione ha stretto con il Governo. Nel piano, infatti, anche un programma d'assunzione per rientrare gradualmente dell'unità di personale mancanti. Da dove arrivate? Dalla provincia di Lecce. State aspettando già da molto? No, noi siamo al secondo turno, siamo in anticipo, quindi l'attesa non è quantificabile. Oltre 10.000 candidati per pochissimi posti, spaventa la cosa? No, non spaventa, non c'è stato tanto tempo per studiare perché le materie sono tante, gli argomenti sono molto vasti perché comunque la pubblica amministrazione oggi prevede tante settorialità specifiche su quale bisogna essere preparati. La materia è così vasta, quindi sono tutti gli argomenti, bisogna vedere, le domande possono essere così specifiche, tecniche o piuttosto generali, quindi è tutto il contrario di tutto, vedremo. Cosa avete preparato in particolare? Materie comunque di diritto costituzionale, amministrativo, diritto appunto penale, gli enti locali, insomma, un po' di tutto. E sullo stato della città, nello sviluppo della città si è espresso il Vescovo di Lecce, Michele Seccia. L'eccellenza lei è sempre presente sul territorio. Lecce è una città che ha particolari emergenze, anche a livello sociale. Quanto incide la povertà a Lecce? A Lecce io ho cercato di dare delle spinte e ne sono più che soddisfatto dei risultati, però non è la bacchetta magica che cambia la condizione sociologica o gli stili di vita o altro. Una Lecce spesso di lustrine e paillette, una realtà lontana dalle emergenze reali della società, ma com'è la situazione reale nella nostra comunità? Per il Vescovo di Lecce, Monsignor Seccia, la risposta potrebbe essere proprio nella proposta artistica del nostro Salento. La proposta c'è. Dalla proposta di dei proprio occupazionale, che grazie a questo essersi inventati, no? il barocco leccese e ora ci sono 30 persone che ricevono, che fanno da guida nelle chiese, che sono aperte da dopo la messa del mattino fino alla sera e quindi abbiamo questa che io chiamo la bellezza, la teologia della bellezza, perché non possiamo identificare, sia pure e caratteristico di Lecce, il barocco leccese, ma la bellezza che troviamo nelle chiese, basta andare anche nella cappella del seminario, ci sono tre altari, uno diverso dall'altro. Cambiamo decisamente argomento, dopo un lungo periodo di formazione vede la luce il consorzio per la mozzarella di Gioia del Colle D.O.P., primo appuntamento con Bayer, provenienti da tutta Europa, che visiteranno gli animali al pascolo e i caseifici. Far conoscere l'eccellenza del prodotto pugliese ad aziende di distribuzione di tutta Europa nasce il consorzio Mozzarella Gioia del Colle D.O.P., che punta alla valorizzazione del prodotto con una serie di iniziative da mettere in campo il prossimo fine settimana, dal 19 al 23 ottobre, per promuovere la seconda mozzarella italiana D.O.P., la prima con provenienza da latte vaccino. L'appuntamento si soma agli altri messi in campo dal consorzio, che si concluderà con l'incoming dei buyers europei, che visiteranno gli animali al pascolo, i caseifici del consorzio e anche la mostra fotografica sull'evoluzione della lavorazione della mozzarella di Gioia del Colle. È un prodotto che parla alla sua terra, della sua terra, ripescando le antiche tradizioni dal passato rurale e attualizzandole, conservandone il meglio. Il nostro territorio ha alte produzioni di latte. Con l'inizio di queste attività che domani vedono coinvolti alcuni buyer esteri, ci aspettiamo la crescita delle vendite, senza nulla togliere a quelle che sono già le presenze sulle migliori insegne nazionali a scaffale. Abbiamo una proiezione molto positiva di un più 12%, ma i dati sono sempre molto aleatori e vanno presi con le pinze, perché dipendono dalle esigenze di un mercato in evoluzione, di una concorrenza sleale che ho denunciato negli ultimi mesi, perché sono state fatte fiere in Italia e all'estero, mettendo loghi che richiamano produzioni pugliesi. Questo è un tema che ho attenzionato con la repressione frodi, con i NAS, non daremo scampo. Mattinata in corso, la festa dell'olio extravergine di oliva con la terza edizione di Fextra, dedicata all'oleoturismo. Noi mettiamo a disposizione questa opportunità stando dentro a un concerto di azioni e anche di relazioni partenariali, istituzionali e soprattutto con tutto il mondo della produzione che arrivi al consumatore, con una comunicazione ufficiale, netta, chiara e soprattutto sulla qualità che ne determina l'attenzione alla salute. Entra nel vivo la terza edizione di Fextra, la festa dell'olio extravergine d'oliva di mattinata, organizzata dal Comune e dall'Agenzia Scopro, con il supporto della Regione Puglia e di tanti altri enti. Il festival ha avuto inizio il 13 ottobre e proseguirà fino a domenica 22, con tanti eventi e iniziative dedicate alla promozione e alla valorizzazione della filiera olivilicola. Una terza edizione che ha il sapore della consacrazione di un modello e che quest'anno mira a diventare la kermesse di riferimento sul tema dell'oleoturismo. Saranno giornate piene di appuntamenti, ma in particolare quello che vedrà compartecipare tutti i sindaci di Puglia nello scrivere la carta di mattinata, che diventerà modello competitivo, esportabile su tutto il territorio nazionale grazie alla fruttosa collaborazione con l'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Fextra sarà naturalmente, come per sua natura, momento di comunità, momento di empatia tra turisti e cittadini, non tralacciando momenti ludici per i bambini e soprattutto mirando a conformare quella che è la bontà della nostra destinazione turistica. E sarà un Natale decisamente speciale a Fasano, dove per festeggiare i 50 anni dello Zoo Safari, con un finanziamento del Ministero del Turismo, saranno installati un albero e delle opere luminose rigorosamente a tema. Un abete alto 16 metri, popolato da figure di animali, luminarie e speciali e più di 50 opere artistiche e luminose, raffiguranti gorilla, leoni, orsi polari, giraffe e così via. Sarà un Natale speciale, quello 2023 per Fasano. In occasione dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario dell'apertura dello Zoo Safari, il Ministero del Turismo ha rilasciato parere favorevole a un finanziamento di 375.000 euro per il progetto The World of Animals, finalizzato a celebrare il secondo parco faunistico più grande d'Europa. L'intero centro storico di Fasano e in particolare Piazza Ciaia cambieranno volto per tutta la durata delle festività dal 18 novembre al 6 gennaio. Anche la cerimonia di accensione sarà particolare, con spettacoli di danza di alto livello, fuochi barocchi e musiche evocative. La Giunta Comunale di Fasano ha deliberato in questi giorni una variazione di bilancio per istituire un capitolo d'entrata relativo alla concessione del contributo ministeriale e ha indetto la procedura di gara volta a individuare l'azienda che si occuperà della realizzazione del progetto. A Lecce la notte delle edicole, strumento con il quale il Sindacato nazionale dei giornalai si prepara lo sciopero nazionale in programma il 21 novembre prossimo. Assessore, è venuto per dare supporto a questa categoria che chiede l'intervento della politica? Per dare giustamente sostegno e supporto noi abbiamo fatto una battaglia, io personalmente, dai banchi della minoranza per portare i certificati anagrafici nelle edico, come vi ricorderete, poi da maggioranza, quindi da ministro del fatto, poi è intervenuto un provvedimento nazionale che ha messo in stand by e ha sospeso quella procedura. Questo per dire che c'è bisogno di una mano da parte di tutti per questa categoria che è in grande difficoltà. Sono un presidio importante in tutti i quartieri, distributori di cultura, di informazione, con una funzione sociale importantissima, per cui bisogna mettersi a fianco alle edicole e dargli una mano. Apertura straordinaria delle edicole del Centro Storico di Lecce si è tenuta quindi anche nella città barocca la notte delle edicole, con la quale il Sindacato nazionale giornalai d'Italia, Sinagi per l'appunto, si prepara lo sciopero nazionale in programma il prossimo 21 novembre. Le seracinesche delle edicole sono rimaste alzate anche in Piazza Santo Ronso e si sono dati appuntamento edicolanti tutta la provincia per un settino di protesta. Quindi la politica cosa dovrebbe fare, mi scusi? La politica deve darci quelle possibilità di sopravvivenza, perché se ci hanno aiutati nel periodo del Covid e ci hanno classificati come punti essenziali, perché siamo stati l'unico punto vendita aperto su tutto il territorio nazionale. Noi non abbiamo subito chiusure nel periodo del Covid, abbiamo distribuito le mascherine, abbiamo dato la possibilità alla gente di informarsi anche in quel periodo che nessuno poteva uscire. e ci hanno onestamente anche ricompensati con dei sostegni che devono essere purtroppo, se vogliamo sopravvivere, stanziati in maniera continuativa. Ci fermiamo ma torniamo tra poco con le notizie da Bari, Batte e Foggia, state con noi. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni, per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo.